L'attuazione del PNRR è una priorità nazionale. Il 15 luglio del 2020 lo votammo solo alcuni. Io non l'ho dimenticato, so che allora non c'era il voto di tutti i partiti di centrodestra, che ora invece stanno lavorando per l'attuazione del PNRR. Questo dovrebbe far riflettere tanti su tante cose, ma ora dobbiamo essere uniti per completare questo lavoro sulla sanità, sulla scuola soprattutto e sugli investimenti che cambieranno in meglio il nostro paese. Tutto questo è una crisi internazionale che ha bisogno sempre più di un'Europa forte e di un'Italia che guidi questo processo. Lei è un po' preoccupato per questa incapacità dell'Italia a sfruttare i fondi europei? Abbiamo un po' questa difficoltà? No, l'Italia quando ci sono interessi nazionali deve remare dalla stessa parte e questo non sempre succede, non sempre accade perché ci sono opzioni a volte strumentali di alcuni partiti, discutiamo qui oggi anche per questo. Io penso che quando si debba accelerare su 40.000 plessi scolastici da rendere moderni e adeguati per i nostri bambini non c'è una distinzione politica, eppure c'è chi la fa. Quando è necessario investire sulla sanità pubblica senza sé e senza mai bisogna dire sì e bisogna essere tutti alla stessa parte. Se ci sono delle distinzioni è evidente che c'è chi si fa condizionare dagli interessi legittimi ma di pochi. Questo significa essere dalla stessa parte. Da questo punto di vista il PNRR è l'occasione per guidarlo questo processo anche in Europa. Siamo il paese che prende più risorse dall'Europa e siamo il paese in questo momento che ha la responsabilità di dimostrare che gli investimenti pubblici comuni e il debito comune sono una grande speranza per rafforzare l'Europa e non un passo falso. Da questo punto di vista chi crede davvero nell'Europa, io mi auguro che tutti i partiti di destra ci credano quanto noi, hanno il dovere di andare avanti fino in fondo.